Con gli studenti dell'Istituto Steiner di Torino è iniziato il progetto Lezioni Recitate, curate dal Centro Studi Gobetti in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione. Ogni lezione recitata presenta la vita, il pensiero e l'azione di una figura della storia del Novecento. Lo scopo è far emergere tratti importanti del personaggio e mettere in evidenza i legami con la sua epoca e il significato attuale delle sue azioni. Il teatro, insomma, come strumento per vivacizzare la didattica.